Ciao, adesso siamo a Marble Arts, una delle vie con più negozi e dove ci sono più persone in tutta Londra, e c'è molta vita noturna, a parte stasera che non so perché non c'è nessuno, ma di solito c'è, è pieno, e ora stiamo andando a Piccadilly, però vi faremo vedere qualche negozio. Adesso, è provinato di... ... ... ... ... ... ... ... Aspetta Andrea, aspetta Andrea Guarda che mi vuoi! C'è! Va bene, vi faccio! Tipica scavoda! No, in inglese! 295 pound! Ah, ci sono i salvi ovviamente. Queste sono più belle. Oh sì, no. Vabbè, poi in una è troppo cursa ovviamente. Allora, qui ci siamo. Allora, un'altra. Allora, un'altra. Ci sono un'altra. Ma un'altra. Ci vediamo al prossimo video. Allora, noi adesso siamo qui, vicino alla stazione di Bond Street, nella via di Marble Arch, Oxford Street. Dobbiamo andare qui a Piccadilly Circus. Arriveremo fino a Oxford e poi prenderemo tutti qua, alla stazione di Oxford. Questo qui è un tipico palazzo inglese illuminato. Sì, arrivo. No, non è pubblicità. Qua ci sono orologi ovunque. Ah, quello è l'oreloce da Apple. Ci sono ovunque orologi? Ok. Sì, adesso che arriva l'istante è l'acqua piccola. È vero che qui è freddo. O ci vuole. Vabbè, dovete fare la selfie così. Sì, dai, perché no? Che cosa sarebbe questa che non vengono? Ma no, ti pare di vedere. Wow. Wow. Che cosa fare? Vedi la profonda? Vedi la profonda. Ah, da qua. Questo mi ricorda Stargate. Sì, è bravo. Oddio, con l'altra deve fare veramente presenza. Questo è sempre a Frozen. Davvero? Se volete cantare. Ok. Passa avanti. Ma no, non è l'Apple. Vabbè, ma per qualsiasi cosa. Perciò va. Wow. Volevo questo. Ma io volevo quello. Ma io volevo quello. Ascolto male. Ok. Daniele orologi. Wow. Ecco le statue a quelle che ti portano in giro sulla carossina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Corre, ah, wow. Cosa hanno vinto? Corre, corre. Ok, direi... Ci vediamo a Picadilly? Ci vediamo a Picadilly. Quando arriviamo a Picadilly ci vediamo. Se non troviamo qualcosa... Se non troviamo qualcosa... Se non troviamo qualcosa... Il rammento a Marbolaccio dovreste vedere. Ciao. Ciao. Allora, qui siamo a uno dei negozi più belli della via. Per voi. Della via di Marbolaccio. Sì, che qua mettono sempre tipo... Cambiano molto spesso, fanno avere delle belle cose. Sì, che qua mettono sempre... No, ma non è un po' di tempo fa. Probabilmente è chiuso. Dici. Sì, poi c'è... Il negozio Disney. Scusate. Lì c'è... Metteremo una foto. Quando è uscito Frozen c'era tutto il castello di Frozen con Elsa. Molto bello. Poi a me quando è uscito Cinderella c'era ovviamente... C'era Cinderella. Adesso c'era Punzel. Ah, chissà, sappiamo perché. E là c'è il nuovo... Il nuovo film della rabbia... Quella roba delle emozioni. Insidale. Insidale. Sì, non lo ripetavo io. Sì, ma in Italia non si chiama un altro modo. Non lo so. E Iron Man. Perché le tute qui vanno tutto l'anno. Sì. Tipo Spider-Man. Perché non si dà via la maschera? Metteremo delle fatte che aveva fatto tempo fa. Che di sotto ci sono... C'è una stanza praticamente. Dove ci mettono i midi di l'araduce. Pesso che accanto. E tu puoi andare sotto. Per i bambini naturalmente. Poi ci sono due statue di Anna e Elsa. Oh, che vengono. Non ti ho visto. No, niente. Sì, il negozio è molto bello. Sì. È molto bello, è molto bello. Non mi muoce. Sì, ancora lo devo vedere. Ma secondo me è più bello. Vada. Vada. Allora, quelli sono tutti i quadrettini appaccati. che si muovono col vento e formano delle olle. No, c'è. Poi, qua le scelte c'è. Quando venentano tipo i... C'è sempre, non so, perché c'è chiuso. Souvenir. Souvenir di loro. Sì, vabbè. Cappelli, maglie e... Vada, i portacchiavi. Allora, qui si muovono? Allora, qui si muovono? Sì, ci vediamo l'orecchio. Sì, il gelatino anche per me va? Sì, buona gelatina. Allora ma va? Lo sto fumando per il giungo. Che? Il giungo. Eh, con una mano un po' spaticano. Basta! No, ancora no, ok. Ma che tipo? Come quando arriva nel telefono? Basta, ok, basta. No, è mio! Ok. Ma va! Mi dite in che temperatura c'è? Eh, non lo so. Un attimo. Vabbè, sono le... Ehi, questo è mio! Ehi, questo è mio! Ehi, mamma! Ma vabbè, sono le 11... 11? Sono sì, le 11 e 5 di sera. Dove sono i gradi? No, no. 17 gradi. Sono 17 gradi. Sono 17 gradi. Le persone, ovviamente, le ragazze, hanno la gonna, la minigonna, vabbè, e le braccia smanichiate. Io non so come fanno, freddo che mai. E senza calza. Sì. E siamo a metà luglio, ovvio. Sembra ovvio. No. Allora, qui si vede una ciabatte. No, aspetta. O si è in ciabatte con bus, con la gonna corta, senza calze. Però almeno ha il giacchetto, lei. Almeno ha il giacchetto. Questa qui, invece. Vabbè, ma c'è anche pure questa. Ma è tutta scollata. Anche questa. Tutte due. Ballante. Prima è passata ora, sento il giacchetto con il vestitino, per dire che andava da qui a qua. Senza maniche, senza niente. Questo freddo. Vuoi portateli in giro per caso? Vale, vale. Io gli ho dato tutto il funzo. Gli ho detto, non gli dai miei. Povera stella. Vabbè che ancora... Mancia! No. No, vabbè, era qui. Va, va, va. Vabbè, è qui. Vabbè, è qui. Li sta passando tutti? Ma anche il tuo, eh. No. Ma anche il vostro. Ma anche il vostro, ho venito qui e portategli. Sì, comunque abbiamo già sentito 4-5 italiani 4-5? No, vabbè, di più E almeno, almeno una decina È quasi tutto chiuso alla fine perché, come abbiamo detto prima, sono le 11 Quindi magari un giorno veniamo anche un po' prima E magari facciamo vedere anche il dentro dei negozi Va bene, dai, ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video No, ci vediamo dopo No, al prossimo video Perché adesso dobbiamo andare in macchina perché si chiude tutto E al finito fa freddo e diciamo anche a sottogginare Sì, dai, va bene Ma va, è stanca, quindi non ci arriviamo più a Dilli Alla prossima volta ve lo facciamo vedere Ciao Sì, dai, va bene